. Torino, Rincon indica la strada, con la Sampdoria dobbiamo comandare il gioco. . Mi aspetto molto di più da noi. È il general è uno di poche parole, semplici e concise, dirette, che vanno dritte al bersaglio. . Thomas Rincon prova a prendersi il Torino, dal leader carismatico ed emotivo. Dopo il successo sul fil di Sirena ottenuto in casa del Benevento, il sudamericano carica i Granata in vista della sfida interna, la seconda stagionale, contro la Sampdoria. . Quella di domenica è una gara che si gioca a casa e dobbiamo dare il massimo. . La Sampdoria sta facendo bene da un bel po' con un sistema di gioco particolare che può mettere in difficoltà, ha detto il venezuelano ai microfoni di Sky Sport. . . Il club lucerchiato ha attaccanti importanti che non appena hanno spazio tirano e prendono sempre la porta. . Sarà una partita difficile, come quella col sassuolo, dobbiamo gestire noi il gioco e mettere in campo quella sana cattiveria di cui le squadre hanno bisogno soprattutto in casa. . . Discorso molto più ampio e generale riguardo invece la costruzione della rosa attuale a disposizione di Sinisa Mihailovic, prima di guardare agli obiettivi stagionali, è una squadra costruita adesso, anche nell'ultimo giorno di mercato. . . Abbiamo iniziato bene, però io penso che bisogna guardare partita per partita. Non possiamo dare il giudizio ogni settimana, non è una cosa sana. A fine aprile o maggio vedremo come sono messi. Non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è chiaro. . . Ed infine, sulla visita a Superga fatta in settimana, la chiosa, che è la storia del calcio italiano e mondiale, basta pensare alla tragedia che è successa. Si respira aree di storia, avevo la curiosità di scoprirla e sono salito. . . Ho parlato anche con alcuni tifosi. .